Zia Fernà che ha detto nessuno ti fa mangiare i carciofi trifolati guarda la ricetta perché te faccio i carciofi trifolati più buoni della vita tua visto che fate tutte le ricette fighe che cambiate il pezzemolo oggi vi do io iniziamo a pulire i carciofi mamma o non mamma mamma o non mamma potete fermi se no non mangi più bene oh non ti dimentica il limone olio in padella togli l'aglio sale e pepe mentuccia romana pezzemolo del buzzo due gocce di limone ciao core